bentornati bentornati sul canale bentornati sul canale no stavo controllando ancora questa roba della del dei volumi audio e devo dire che sono corretti quindi quando entro in collegamento con stream yard mi si abbassa il livello in automatico e quindi poi ogni volta devo rimettere l'importante è capire perché perché capire il problema il primo passo per risolverlo come dicevano come dicevano i saggi come dicevano i saggi e oggi hanno detto tante tante parole durante l'assemblea dei soci vari marotta antonello e soprattutto soprattutto steven jung prima di venire alle parole di steven jung volevo con voi volevo volevo aggiornarvi sulle questioni di campo anche oggi arnauto e soprattutto quadrato hanno lavorato a parte quindi è da escludere la presenza del colombiano per la sfida con la roma un calvario praticamente per l'ex juventus che finora sono passati ormai due mesi pieni dato veramente poco alla causa nerazzurra per questo problema sorto dopo la prima sosta nazionale secondo me per essere ottimisti rivedremo quadrato dopo la prossima sosta nazionale quindi quadrato a buon ritmo poi magari lo convoca fa cinque minuti con una scarpa e una ciabatta va bene però intendo dire quadrato che può essere un fattore secondo me dopo la prossima sosta se tutto va bene perché le infiammazioni sono subdole quindi vanno via tornano non si sa bene i tempi boh non si sa chissà ogni volta c'è ogni anno c'è almeno un interista che piomba nell'oblio un oblio senza fine per citare i cavalieri dello zodiaco e non si sa quanto quando riemerge l'anno scorso era lukaku e mo rientra invece no e rientra invece no e rientra invece no sarei vista aprile poi era toccata a brosovic no era tornato mondiali però è tornato e poi sarei fatto ma ogni anno così va beh quest'anno è toccata a quadrato arnauto dice una roba più secca se si è distrutto il muscolo e torna nei tempi corretti avevo detto secondo me le previsioni erano un po troppo ottimistiche no si parlava di fine ottobre e infatti vedete che andiamo più in là ma io sono sempre quello pessimista in il tristone se se dico alcune cose ne dico altro invece ma tu sei troppo fio societario parte del gioco non ci arrabbiamo mica per questo buongiorno a tutti è esordito oggi steven jung durante l'assemblea in collegamento nanchino nanchino come insegnano perché perché ancora non è a milano e quindi ha fatto un collegamento audio video ben ritrovati vabbè eccetera 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 io io vi condenso alcune alcune dichiarazioni perché è inutile che stiamo qui a leggerle a leggerle tutte a leggerle tutte steven jung ha detto quest'ultimo anno ha confermato la straordinaria crescita del nostro club abbiamo creato continuità una nuova stagione vincente all'interno di un ciclo di cinque anni quello della sua presidenza chiaramente per ribadire la massima competitività sportiva in questa stagione abbiamo anche compreso come la nostra ambizione non si fermi qui oggi l'interna azienda moderna innovativa digitale è un brand che trascende dai confini dei campi di calcio ci muoviamo in un contesto di forte competizione da parte di rivali nuovi e tradizionali ma è anche un momento di grandi opportunità di crescita coglierle è il nostro obiettivo corre il nostro massimo impegno nel proseguire sul percorso virtuoso verso la stabilità finanziaria portiamo avanti con decisione il progetto per un nuovo stadio di proprietà per l'inter di importanza strategica imprescindibile per il club siamo di nuovo e stabilmente tra i top club in europa per i nostri tifosi e per entrare per sempre nella storia di questo club lotteremo per la seconda stella quindi fissa alcuni punti più che noti oserei dire cioè seconda stella competere al massimo in champions league e lo stadio di proprietà che magari per i maligni può essere anche più utile alla gestione del club ma vediamo insomma i numeri del bilancio li sappiamo il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno riduzione delle perde rispetto al 2021 2022 di circa 55 milioni da 140 85 fatturato complessivo che si attesta sui 425 milioni con un aumento di 60 milioni anche al netto del player trading soprattutto il record di 80 milioni di incasso dal botteghino la stagione 2022-2023 rimarrà a lungo nelle memorie di tutti noi per la straordinaria cavalcata europea che ci ha portati fino ad istanbul alla finale di champions league la sesta della storia gloriosa dell'inter raguardo che al club mancava da 13 anni ma non solo abbiamo continuato a vincere la supercoppa italiana che ci ricorda un altro dominio contro il milan nella lotte di riad e la nona coppa italia della nostra storia ha detto questo beppe marotta l'inter ha iniziato questa stagione con la consapevolezza di essere vice campione d'europa l'orgoglio di aver creato un ciclo vincente l'obiettivo di mantenerlo abbiamo consegui consegnato a mister inzaghi una rosa completa ed altamente competitiva seguendo le necessità di al tenerci criteri finanziari di riduzione dei costi e lavoro che accompagna la visione per la crescita sostenibile ed etica del club vabbè queste sono le solite insomma dichiarazioni che conosciamo il politichese di marotta invece volevo trovarvi un'altra dichiarazione di steven jang se riesco a trovarla volevo trovarla qui vediamo 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 eccola qui allora ha detto in breve finché sarò il presidente metterò tutto il mio impegno per questi colori e chiaramente a questo a questo finché su questo finché in tanti hanno ci hanno visto un qualcosa che 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 va che va oltre quindi la possibile cessione no ecco le parole esatte da parte mia vi posso assicurare che in questi cinque anni nei quasi otto da quando abbiamo acquisito il club ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori sarà così finché sarò il presidente dell'inter sono orgoglioso di aver avviato un ciclo vincente insieme a tutto lo staff e giocatore l'inter e ora di nuovo stabilmente lo club in europa e con loro si contende la passione di milioni di ragazzi in tutto il mondo la vittoria è sempre la nostra priorità per i nostri tifosi e per entrare insieme a queste già abbiamo un pezzo alla della seconda stella eccetera eccetera e e quindi dicevo alcuni su queste parole comunque a quel finché in quel finché hanno visto un una scadenza una scadenza una scadenza anche oggi si parlava di scadenza il sole 24 ore oggi o ieri non ricordo diceva è impronosticabile impronosticabile un rifinanziamento a meno che non 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 ci si metta di mezzo diciamo non ci metta a mano il governo di nanchino anni nanchino perché perché potrebbe servire un intervento diretto a fine di non far perdere a suning quindi a una una costola ovviamente della del governo cinese un asset come quello dell'inter un asset globale che si sta espandendo e forse come mai proprio in questo periodo ha raggiunto un un livello così alto anche al livello internazionale che per chi l'ha coltivato finora potrebbe essere un peccato doverlo doverlo perdere poi da qui a capire dove arrivi il politichese e dove inizi la realtà ce ne passa il tempo sicuramente ci dirà se poi alla fine della fiera quindi alla fine di di questo di questa scadenza quindi a maggio chiaramente la decisione dovrà essere necessariamente presa prima e solo il tempo ci dirà anche dopo il maggio 2024 quindi per la prossima stagione suning sarà ancora proprietaria dell'inter oppure no un saluto